I personaggi devono essere statici come il David di Michelangelo o dinamici come Usain Bolt? Ehi là! Cosa rende un personaggio statico? Cosa lo rende dinamico? Cosa vogliono dire questi due termini? E ci sono dei casi in cui preferire l'uno o l'altro? In questo video cercheremo di dare una risposta a tutte queste domande. Ma prima vi ricordo che potete leggere in anteprima il mio nuovo libro, Omicidio nel quartiere del dragone, tramite Patreon, su cui sto postando due capitoli a settimana, martedì e venerdì. Oggi dovrebbe essere uscito il quinto capitolo, se la matematica non è un'opinione. E tra l'altro, una volta che saranno usciti tutti i capitoli, avrete libero accesso alla versione ebook del libro e alla versione ebook di tutti gli altri libri, quindi se siete curiosi di dare una lettura alle cose che scrivo, Patreon è il posto perfetto per farlo. Ma ne parliamo meglio a fine video. Tornando a noi, i termini statico e dinamico in relazione ai personaggi di fiction si riferiscono al loro arco narrativo all'interno della storia. In questo video mi occuperò solo della distinzione tra questi due termini e non propriamente di come creare un arco narrativo. Se siete curiosi farò un video più avanti spiegando tutti i diversi tipi di archi narrativi che esistono e come costruirne uno, quindi nel caso fatemelo sapere che io inizio a organizzare un video del genere. I personaggi statici sono di solito piatti e non si sviluppano nel corso della storia, rimangono gli stessi dall'inizio alla fine. Magari perché sono personaggi minori, magari perché sono già perfetti così come sono, come per esempio Indiana Jones. I personaggi dinamici sono di solito rotondi e, al contrario, si evolvono durante la storia, cambiano a seconda delle esperienze che fanno. Questi personaggi hanno un arco narrativo e si modificano di conseguenza, nel bene o nel male. Ne sono un ottimo esempio tutti i romanzi di formazione, come Harry Potter. Alcuni diranno che i personaggi dinamici sono intrinsecamente migliori rispetto ai personaggi statici, perché hanno un arco narrativo e cambiano durante la storia come le persone vere. Però questo non è sempre vero. Durante determinati eventi ci sono persone che cambiano e persone che invece non lo fanno. Dipende da chi esse sono, dipende dalla loro storia, dalle loro esperienze. Non bisogna pensare alla staticità o dinamicità dei personaggi in termini di qual è meglio tra le due. Un po' come per i personaggi piatti, i personaggi rotondi. Niente è mai bianco e nero, tutto è situazionale. Qual è meglio tra i due? Beh, dipende dal personaggio che state creando e dalla storia in cui lo state ponendo. La situazione è analoga a quella di un paio di video fa. Come per la diatriba tra personaggi piatti e personaggi rotondi, che si risolve nel tendenzialmente sono migliori i personaggi rotondi, ma anche i personaggi piatti hanno i loro ruoli in cui spiccano meglio. Anche questa volta tendenzialmente sono migliori i personaggi dinamici, ma anche i personaggi statici hanno le loro situazioni in cui in realtà sono preferibili. Quindi quando sarebbe meglio adottare dei personaggi statici? Beh, ho fatto un po' di ricerche e secondo me si possono distinguere quattro casi. Se il personaggio in questione è un personaggio minore, non è necessario che abbia questa grande complessità, che viva dei drammi intensi, sia sottoposto a un'elevata tensione e non è necessario che vada incontro a uno sviluppo sostanzioso durante la storia. Alcuni personaggi sono di passaggio, di contorno, e non ha senso che vengano esplorati in questi dettagli che finirebbero solo, diciamolo, ad annacquare la storia e a rallentare il corso della narrazione. Nel caso vi trovaste per le mani un personaggio molto secondario, però per cui avete in mente un lungo background, delle motivazioni precise, un bell'obiettivo, un bell'arco narrativo. Questa potrebbe essere un'indicazione che questo personaggio non è così marginale per la storia che volete narrare, o che perlomeno è un personaggio abbastanza interessante da poter provare a dargli un ruolo più rilevante all'interno della storia, magari rendendolo un comprimario. Se così non fosse, invece, mi raccomando, non forzate le cose, usate la regola dell'uccidere i vostri cari. Se semplicemente non ha senso esplorare quel personaggio, non fatelo. A tutti dispiace lasciare indietro alcune parti delle storie che ci piacciono particolarmente, ma bisogna fare ciò che è bene per la storia, mirate al bene superiore e sacrificate quel povero personaggio di cui, vabbè, unlucky. Quando un personaggio ha già vissuto un mare di esperienze e si è già trovato in una miriade di situazioni simili a quella che sta vivendo ora, è difficile che ne esca cambiato, no? In Indiana Jones ci viene lasciato intendere che Indy abbia già vissuto una marea di avventure prima dei film che ci vengono mostrati e quindi è naturale che lui non esca cambiato da queste esperienze. A noi sembra un'avventura fuori di testa, per lui è martedì. Questi personaggi, come i veterani, i vecchi maestri, detective consumati, hanno già vissuto nel loro passato l'arco narrativo che li ha portati a ciò che sono oggi. Ormai sono testati, rodati e non cambieranno più per situazioni che hanno già vissuto mille volte. Potete pensare a questo tipo di personaggi definiti iconici come dei personaggi alla fine del loro arco narrativo. Voi li prendete in esame, li usate per le vostre storie dopo che il loro arco narrativo è già stato compiuto. Semplicemente non è che non hanno un arco narrativo, è che l'hanno già avuto. Nel caso vi troviate tra le mani un personaggio del genere e volete fare in modo che cambi durante la storia che state raccontando, dandogli un nuovo arco narrativo, la parola chiave è proprio questa. Un nuovo arco narrativo. Nuovo nel senso che deve essere qualcosa che non ha ancora incontrato. Non potete creare un nuovo arco narrativo per Indiana Jones facendogli fare qualcosa di avventuroso. Di cose avventurose ne ha già fatte fin troppe, non cambierà ponendogli davanti delle sfide d'avventura. Potrà cambiare ponendogli davanti delle sfide di altro tipo. Se volete che un personaggio del genere cambi, dovete porgli di fronte sfide diverse rispetto a quelle che ha affrontato nei decenni di vita che ha trascorso. In questo modo le nuove difficoltà a cui non è abituato andranno a scolpire e modificare altri lati del suo carattere. C'è anche da dire che vedere indie in un film rosa non interessa nessuno, credo. Anche se la sua abilità nella frusta potrebbe tornare utile in alcuni sensazioni. Le storie plot driven sono focalizzate sull'azione, sugli eventi, e quindi non è necessario andare ad esplorare troppo in dettaglio la profondità della psiche del personaggio. Anzi potrebbe addirittura rivelarsi una cosa controproducente, perché in questo modo andreste a rompere il ritmo, il passo della storia che state raccontando, rallentandola. E potrebbe essere appunto controproducente. In questo tipo di storie in generale avete meno tempo da dedicare all'esplorazione psicologica del personaggio. È normale. Ma questo non è un problema, perché in storie del genere il focus non è posto sull'evoluzione del personaggio. Anzi, in realtà i protagonisti di queste storie tendono ad appartenere alla categoria precedente, gli esperti, consumati professionisti, i migliori del loro campo. John Rambo è un re luce di guerra abbandonato dallo Stato e viene utilizzato per denunciare il trattamento indecoroso che subiscono alcuni reduci di guerra e delle problematiche causate dal disordine da stress post-traumatico quando questi reduci cercano di reinserirsi in società. Oltre alle tematiche complesse trattate nel film, la messa a scena in realtà si focalizza sulla mera azione e John Rambo non cambia alla fine del film. Era un re luce traumatizzato prima e tale rimane. La categoria delle serie episodiche è un gigantesco calderone da cui possiamo prendere come esempio le serie poliziesche, quelle mediche, le sitcom. In questi tipi di storie caratterizzate da trame verticali piuttosto che orizzontali, a fine puntata, a fine episodio, a fine racconto, la situazione deve tornare quella originale. In questo modo il pacchetto è serializzabile all'infinito senza nessun problema. Pensate al Tenente Colombo, a Castle, al Dottor House, a Scrubs, alla vita secondo Jim o ai Simpson. Certo, ci sono le eccezioni, ci sono le sfumature, però in questo tipo di narrativa i protagonisti devono essere statici, perché se fossero dinamici e cambiassero alla fine di ogni puntata, di ogni arco narrativo, ben presto ci troveremmo con un set di personaggi completamente diverso rispetto a quelli originali e la storia giungerebbe a una naturale conclusione. Oppure, come è successo al personaggio di Barney Stinson in How We Met Your Mother, i personaggi finirebbero con una regressione mentale a cazzo di cane perché altrimenti andresti a perdere quella chimica che avevano quegli altri personaggi che aveva funzionato in maniera splendida fino a quel punto. Per il resto è sempre consigliabile utilizzare personaggi dinamici, però volevo spendere un paio di parole su un paio di punti in cui secondo me è particolarmente importante utilizzare personaggi dinamici. Due punti in cui se utilizzate personaggi statici state uccidendo sul nascere la vostra storia. Le storie character driven si focalizzano sull'arco narrativo del protagonista, si focalizzano sulla psicologia dei personaggi principali, sul loro modo di pensare, sul conflitto interiore, sul cambiamento e sull'adattamento a una nuova vita. Basti pensare, beh, tipo alla totalità dei film Disney. I personaggi sono giovani, inesperti ma curiosi e durante la storia scoprono una moltitudine di cose e trovano al loro posto nel mondo. Queste storie sono letteralmente basate su un protagonista che affronta dei problemi e cambia di conseguenza. In questi casi, se non avete un personaggio dinamico, non avete una storia. Questo può fungere dal campanello d'allarme in alcuni casi in cui magari siete un po' confusi sulla storia che state scrivendo. Date un occhio al vostro protagonista. Se è un protagonista statico, allora sicuramente non state scrivendo una storia character driven. Il che non vuol dire che stiate scrivendo una brutta storia e non vuol dire nemmeno che il vostro protagonista abbia necessità di essere reso più dinamico. Forse vuole semplicemente dire che state puntando sulla storia sbagliata e che magari potete risolvere tutti i vostri problemi andando a cercare una formula o una struttura che si adatti meglio a un personaggio statico. Se avete questo tipo di problema potete semplicemente provare a reinventare la vostra storia sotto un'altra ottica, utilizzando una struttura più plot driven. Quindi spostando il mistero, il conflitto della storia da problemi interni psicologici del vostro personaggio a problemi esterni, a forze che gli si parno contro e che lui deve contrastare. Insomma, tendenzialmente il conflitto per un personaggio dinamico è un conflitto interiore, mentre per un personaggio statico è un conflitto esteriore. Nelle storie di formazione il personaggio sta affrontando qualcosa di nuovo e di impegnativo e di solito quando le persone affrontano delle nuove sfide apprendono, cambiano, crescono. Se ponete i vostri personaggi davanti a uno sconvolgimento della loro vita, questi cercheranno di adattarvisi e che sia nel bene o che sia nel male è comunque un tipo di crescita. Questo caso è un po' l'opposto rispetto ai personaggi esperti di cui parlavo prima. Se quegli esperti possono essere paragonati ai mentori, i protagonisti dei romanzi di formazione possono essere paragonati agli apprendisti. Pensate alle storie che si basano su un rapporto maestro-apprendista, come Star Wars con Anakin e Obi-Wan, o Eragon, con Eragon e Brom. Per gli apprendisti tutto è nuovo, qualsiasi esperienza che fanno, qualsiasi sfida che affrontano è un'esperienza o una sfida nuova e quindi ha senso e dovrebbero cambiare di conseguenza. Nel prossimo video volevo andare a prendere alcuni personaggi da film, serie o libri e andare ad analizzare la loro personalità e il loro arco narrativo, per cercare di capire se sono piatti o rotondi, statici o dinamici. Mi sembrava una cosa divertente da fare e che poteva allo stesso tempo dare un sacco di esempi pratici. Così possiamo anche discuterne insieme, perché non è detto che la mia analisi sia corretta. Anche perché online ho trovato persone, anche professori che insegnano scrittura creativa, che pensano le cose più diverse degli stessi personaggi. Poi nel prossimo video vi farò degli esempi. quindi non è una cosa scritta nel marmo. Per una persona un personaggio può essere piatto, per un'altra può essere rotondo. Ditemi se vi fa piacere l'idea di fare dei video del genere, che magari ne faccio anche più di uno, perché esistono una miriade di personaggi là fuori e anzi se ce n'è qualcuno che volete a tutti i costi vedere analizzato o di cui volete parlare, scrivetemelo nei commenti che magari lo includo. Vi ricordo che il 22 novembre uscirà il mio nuovo libro Omicidio nel quartiere del dragone e che potete leggerlo in anteprima su Patreon insieme tra l'altro a tutti gli altri miei libri, perché sostenendomi al tier di archivista avrete accesso completo all'archivio che contiene tutti i miei libri in formato ebook. Per questo nuovo libro rimaniamo nell'ambito della fantascienza e torniamo nel mondo di Nova, dove troviamo i nostri antieroi Carter e Kazuya alle prese con la loro dura vita a sopravvivere alla giornata accettando i peggio lavori che vengono loro offerti nel quartiere del dragone. Rispetto a Il Segreto di Silver City, di cui questo è un seguito, questo romanzo si svolge per la gran parte all'inizio all'interno del Terzo Anello di Nova e quindi andremo a vedere alcune delle parti più degradate della megalopoli. Poi le cose si evolveranno in maniera inaspettata all'arrivo di un altro personaggio che sono sicuro amerete. Io ringrazio tantissimo i miei patroni che scorrono qui a fianco dei miei video e spero che molti altri di voi che state guardando si miscano all'ordine, perché l'ordine ha bisogno di mano d'opera, tutti quei manufatti antichi non si restaureranno da soli. E per oggi è tutto, io come al solito vi auguro buona scrittura e buona lettura. Ciao!